4 dicembre 1975. A New York muore la filosofa e storica tedesca Hannah Arendt. Nata da una famiglia ebrea, la Arendt studia filosofia con Martin Heidegger all'Università di Marburg. Ha una relazione sentimentale segreta con quest'ultimo, scoprendo solo piuttosto tardi le simpatie naziste del filosofo da cui si dissocia. Dopo aver chiuso questa relazione, la Arendt si laurea con una tesi sul concetto di amore in Sant'Agostino, pubblicata nel 1929. Nel 1933, dopo l'avvento del nazismo, la Arendt lascia la Germania e si trasferisce prima in Francia e poi negli Stati Uniti, dove risiederà fino alla morte. Tra le sue opere più note, le origini del totalitarismo, ebraismo e modernità e la banalità del male.